Circa mezzo ettaro di terreno nei pressi di via Corato, con all'interno rifiuti di ogni genere, in particolare materiale elettrico e ferroso, sottoposto a sequestro dalla polizia locale di Andrea, denunciato un uomo beccato in flagranza mentre era intento a sistemare alcuni dei rifiuti rinvenuti poi nell'area. Altra discarica abusiva scoperta dagli agenti andriesi dopo le diverse segnalazioni dei cittadini e una lunga attività di osservazione per lustrazione da parte delle pattuglie nelle aree segnalate. Nel terreno un fondo agricolo con annesso fabbricato, evidenti sono anche le tracce di roghi appiccati, probabilmente per ricavare rame da componenti di materiale elettrico. All'interno del sito ogni tipo di rifiuto, come frigo, tv, cavi, lavatrice e così via. L'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria che ora sta procedendo alle indagini, come è accaduto già nello scorso giugno, quando fu individuato un altro terreno addibito a discarica abusiva e da cui presumibilmente partivano dei roghi tossici a ridosso della tangenziale nei pressi di via Biceglie. Il problema è molto più esteso naturalmente anche perché c'è in questi giorni un'emergenza nell'emergenza. Da quattro giorni è cambiato il gestore della raccolta rifiuti in città dopo 12 anni di sangalli e restano molteplici le difficoltà organizzative tipiche dell'avvio di un nuovo servizio. Tra le emergenze tuttavia si è ripresentata la questione isola ecologica di via Stazio che dopo due giorni di chiusura a causa della modifica del gestore è completamente circondata da rifiuti di ogni genere per cui ci vorranno giorni per la pulizia. È facile intuire che ci vorranno ancora un po' di giorni per ridisegnare l'organizzazione del nuovo servizio anche se c'è una spada di Damocle che pende come una scure su questo bando di gara che continua ad avere appendici nelle aule di tribunale. Bocciata la sospensiva del Tar di Puglia proposta dalla terza ingraduatoria cioè la Tecno Service contro il comune di Andrea per aver firmato il contratto di appalto si attende la data del 14 luglio in cui ci sarà la discussione in Consiglio di Stato. Alla base del ricorso dell'azienda piemontese c'è la richiesta di esclusione della RTIG Alplast e Sieco perché non ci sarebbe un requisito del bando rispettato e cioè i 12 mesi consecutivi del servizio di igiene urbana per una città con residenti non inferiori a 100.000. Il raggruppamento vincitore avrebbe però indicato la città di Catanzaro che hanno spiegato dalla Tecno Service conta poco più di 90.000 abitanti. Di questo discuterà il 14 luglio il Consiglio di Stato in attesa di capire definitivamente a chi andrà questo appalto che nel frattempo lascia inevitabilmente tutti nel limbo ed è durato già più del bando stesso. A farne le spese i cittadini e la corretta effettuazione della raccolta differenziata oltre che la pulizia generale della città sempre più sporca con un pessimo bigliettino da visita per turisti e residenti.